Benvenuti in questa nuova video recensione. Chi di voi si è mai chiesto se è possibile utilizzare un'applicazione gesta al proprio dispositivo per farne il doppio uso oppure addirittura utilizzare per avere a disposizione un secondo account? Ebbene sì, tutto questo è possibile grazie a Parallel Space. Andiamo a scoprirla insieme nella video recensione. Bene amici di Medicosnake, avviando l'applicazione Parallel Space sulla omo principale sono presenti tre pulsanti. Uno dei primi è il pulsante FAB in basso al centro. Se cliccato ci riporta direttamente all'elenco di tutte quelle applicazioni là dove noi vogliamo eseguirne una clonazione, per esempio cliccando su Gmail, essa sarà visibile sulla omo principale di Parallel Space e cliccando su di essa verrà creata un'istanza, ovvero l'operazione di isolamento dall'applicazione principale presente sul nostro dispositivo. E così facendo abbiamo l'accesso ad un secondo account. Molto comodo se si sta utilizzando Whatsapp e vogliamo utilizzare due account diversi sullo stesso dispositivo. Ritornando indietro invece troviamo il pulsante installazione privata. Ci riporta al Play Store con una grafica ben diversa da quella che conosciamo e una volta che abbiamo scelto l'applicazione da installare, essa verrà installata direttamente in Parallel Space e non sarà visibile nell'applicazione principale del nostro dispositivo. Parlando del centro di controllo Parallel Space abbiamo l'accesso ad alcune impostazioni e alcune funzionalità messe a disposizione di Parallel Space laddove sarà possibile attivarle o disattivarle. Cliccando sulla scheda impostazioni abbiamo accesso ad alcune personalizzazioni come Crea Scocciatoia. Cliccando su questa voce andremo a creare sulla schermata principale del nostro dispositivo una cartella laddove saranno presenti tutte le applicazioni installate e clonate direttamente da Parallel Space. Cliccando sulla voce Swipe a Parallel Space possiamo attivare Parallel Space senza passare dal drawer principale del nostro dispositivo. La possiamo attivare sia sia con uno swipe da sinistra e sia con uno swipe da destra oppure scegliere di attivare entrambe le impostazioni. Ripollando indietro invece troviamo la voce Creazione Automatica di Shortcut vale a dire che sia attivata nel momento in cui noi andiamo ad installare o clonare un'applicazione sulla schermata principale del nostro dispositivo andrà a crearsi una scocciatoia di quell'applicazione inerente a Parallel Space. In basso troviamo Accedi a Google, Facebook, Google Play Service laddove sono presenti alcuni dei servizi Google come Google Play Store e Play Jockey. In basso troviamo la voce Informazioni laddove possiamo avere tutte le informazioni relative a Parallel Space. Ritornando indietro invece abbiamo anche alcune funzioni come Gestione Attività. Entrando in questa scheda visualizziamo tutte le applicazioni che Parallel Space sta utilizzando e in evento a caso chiuderle. Ritornando indietro invece troviamo la voce Gestione di Storage. Cliccando sulla voce Gestione di Storage oltre a visualizzare la voce Android OS laddove sarà possibile visualizzare lo spazio utilizzato da Android noi possiamo visualizzare anche lo spazio di tutte quelle applicazioni utilizzate da Parallel Space. Ritornando indietro troviamo la voce FAQ ovvero laddove possiamo trovare tutte le domande e tutte le risposte inerenti ai problemi più frequenti e in eventual caso risolverli. Ritornando indietro abbiamo la voce Feedback laddove sarà possibile lasciare il nostro feedback direttamente allo sviluppatore laddove possiamo digitare il testo ed inserire la nostra mail. Ritornando indietro come ultima voce troviamo invita agli amici. Se cliccata ci troviamo davanti alla scheda laddove sono presenti tutte quelle applicazioni di messaggistica istantanea come Whatsapp, Facebook, Telegram e quant'altro. Cliccando su una di queste voci consente di condividere Parallel Space direttamente con i nostri amici. Bene amici di MedicoSnake siamo incendi alla fine di questa video riflessione. Cosa mi è piaciuto di Parallel Space? Di Parallel Space mi sono piaciute alcune delle sue funzionalità di cui l'integrazione del Play Store all'interno di esso con una grafica ben diversa da quella che già conosciamo. Oltretutto permette l'installazione delle applicazioni laddove possiamo gestire la disinstallazione direttamente da Parallel Space e non permette la visualizzazione nella lista principale del nostro dispositivo. Un'altra delle funzioni che mi è piaciuta è che ci dà la possibilità di clonare qualsiasi applicazione gesta all'altro sul nostro dispositivo per fare un secondo punto o magari addirittura clonare una qualsiasi applicazione di messaggistica istantanea laddove vogliamo gestire un secondo account. Per il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like e per avere altre informazioni come l'unica di download special che riguardano Parallel Space sono online da oggi sulle pagine di MedicoSnake.aterdista.org Nella descrizione del video vi lascio il link per raggiungere l'articolo facilmente insieme a tutti gli altri link per seguire MedicoSnake e attivare i social insieme a questo seneggino per iscrivervi al canale YouTube. Che è MedicoSnake Raffaele Odevo. Che è MedicoSnake Raffaele Odevo.